Buon pomeriggio, molte sono le domande che ci si porre oggi di fronte alle immagini televisive di questi giorni. La prima riguarda gli autori di questi gesti di terrorismo ed è la domanda sul perché. Perché un essere umano può giungere a tanta crudeltà? Ci si chiede in quali oscuri meandri della coscienza possono albergare tali sentimenti di odio, di fanatismo politico e religioso? Quali risentimenti personali e sensi di umiliazione collettiva possono essere alla radice di simili folli decisioni? Nulla e nessuno potrà mai giustificare questi atti o dare loro una qualunque parvenza, anche larvata di legittimazione? Ma ci dobbiamo anche chiedere. Ci siamo noi tutti davvero resi conto, rispetto ad altre persone e ad altri popoli, quanto grandi ed esplosivi potessero essere a poco a poco divenire questi risentimenti e quanto nei nostri comportamenti potesse contribuire e contribuisse di fatto ad attizzare nel silenzio vampate di ribellione e di odio. Ma non è possibile, a proposito di questa domanda, non sottolineare anche la tremenda responsabilità di chi, magari dotato di grandi mezzi, ha imparato a sfruttare questi risentimenti e li fornisce gli strumenti di morte, finanziando, armando e organizzando i terroristi in ogni parte del mondo, anche vicino a noi. Anche per costoro non vè nessuna ragione e benché minima legittimazione per il loro agire. E non posso dimenticare neppure quanto Gesù diceva nel discorso della montagna, proibendo anche una sola parola offensiva, perché è contenente già i germi dell'odio e dell'omicidio. La tolleranza zero deve essere per ogni parola o gesto di odio. Ho letto perché queste parole non sono mie. Queste parole sono di Carlo Maria Martini, nel suo ultimo discorso alla città d'Arcivescovo di Milano. E mi sembrava giusto e opportuno ricordarle e ridirle oggi qui, in questa piazza. La disparità sociale genera prima o poi una violenza che la corsa agli armamenti non risolverà mai. Questa serve solo a cercare di ingannare coloro che reclamano maggiore sicurezza. Come se oggi non sapessimo che le armi e la ripressione violenta, invece di portare soluzioni, creano nuovi e peggiori conflitti. E ancora, la globalizzazione dell'indifferenza, che oggi pesa sulle vite di tante sorelle e di tanti fratelli, chiede a tutti noi di farci artefici di una globalizzazione della solidarietà, che possa ridare loro speranza e far comprendere con coraggio il cammino attraverso i problemi del nostro tempo e le prospettive nuove che esso porta con sé.